per l'appunto spargi verbo perché qui al teatro dei medici grande stata di fuoco animazione cena all'aperto cena spettacolo grandi risate grandi comici come chi c'è chi c'è c'è aspetta guarda allora erimo e tina ivan periccioli trasformisti come su tuo monologi animazione per i più piccini perché la mamma mangiano i figliari che vanno stanno allo sbando c'è l'elevazione giochi quindi e mago comico palloncinico cotillon e ci sono anche dei fatti rosteni enrico rosteni da cescina e poi c'è cesca e grande cesca programmi televisivi nazionali quelli zenig e colorado caffè eccetera gaetano gennaio insomma teatro dei medici mi raccomando spargi la voce e la bocca che mi brucia la roba cucina perché si ride però si mangia anche perché si debatte che si tocca